Ciao, in questo video faremo una super staffetta. Ci divideremo in due squadre e dobbiamo arrivare dall'altra parte della pedana utilizzando solo i materassi. Va bene? Ok, le due capitane sono Giada ed Emma. Facciamo le squadre. Fada, Leti, Urno, Franci, Joy, Irene, Claudietta, Eva, Bea, Anika, Greta. Ottimo! Allora questa sfida si farà a tempo, quindi la prima squadra pronta? Chi avete fatto bim bum bum ha vinto lei, quindi parti tu? Ok, pronte? Ci saranno tre compagne decise da voi. Aspettate, guardatemi che spiego. Spiego. Calme, non siamo ancora partite. Allora, tre compagne decise da voi faranno la velocità. Qualche compagna sistema, mette giù i tappeti, e qualcun'altra li toglie, perché quando riparte la seconda compagna deve essere vuota la pedana. Va bene? Ok. Avete già deciso tutto? Chi sono le tre velociste? Allora, Joy, Bea e Claudia. Ok. Pronte? Pronte? Ah, quando si arriva dall'altra parte, dovete sdraiarvi sulla parte rossa, prima di correre indietro. Ok? E lì, ti conviene metterti qua? Così vedi perfettamente quando parte. E dopo, la cematti, perfetto. Ok. Pronte? 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 Pronti? Via! Sei partita, no, Eli? Mi raccomando, via i tappeti della pedana, eh? Via i tappeti della pedana. Bravissime! Corri, corri, Claudia, corri indietro, corri! Tocca la compagna e parte! Vai! No? No? Attenzione che se tocca la pedana e non il maserassolo, è zero, eh? Corri, corri, corri! E stop! Quanto tempo ci hanno messo? Un minuto e diciassette per la squadra di Giada. Ok. Pronte? La squadra di Emma. Mettetevi anche voi dall'altra parte, Emma, scusa. Sì, dai! Sì, dai! Tutte su rosso. Le ultime strategie di squadra. Dovete battere un minuto e diciassette. Pronte? Via! Vai! Bravissime! Dai, 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 dai! Corri, corri! Corri! Guarda, 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 guarda! Brava, mamma, guarda, guarda, guarda! Via! attenzione che si tocca mamma attenzione che si tocca la pedana brava corri 1 minuto e 10 per la squadra di Emma bravissime ciao ciao